Il Servizio Programmazione Sociale di Regione Abruzzo ha pubblicato l'avviso Abruzzo include due per affrontare le criticità derivanti dalle condizioni di povertà estreme e le conseguenti barriere di sviluppo all'autonomia personale. E il lavoro è lo strumento cardine che aiuta a rimuovere i limiti più importanti. Le misure messe in campo saranno finanziate con 15 milioni e 500 mila euro di Fondi Sociali Europei Plus Abruzzo 2021-2027. L'avviso pubblicato sul sito della Regione Abruzzo scade il prossimo 2 ottobre. È una misura che va a favorire le persone svantaggiate, le persone che hanno un handicap, le persone che hanno una patologia psichiatrica, ma soprattutto coloro che vivono in uno stato di povertà, che sono presi in carico dai servizi sociali, tant'è vero che queste somme andranno a favore degli indi d'ambito che poi conoscono le situazioni sui territori delle persone in difficoltà. Vogliamo includerli a livello sociale ma anche a livello lavorativo. Possono partecipare all'avviso associazioni temporanee di scopo composte da ambiti distrettuali sociali, ASL, enti del terzo settore, enti società, strutture private o pubbliche riconosciute, cooperative sociali singole o consorziate, organismi di formazione, agenzie per il lavoro accreditate. Attraverso questo intervento contiamo di attivare 12 progetti sull'intero territorio regionale per coinvolgere almeno 1.400 soggetti dell'area dello svantaggio sociale, per far svolgere loro un'attività di tirocinio o di borsa lavoro, perché saranno coinvolti anche persone che vengono prese in carico dai distretti sanitari e sono soggetti che hanno problemi di dipendenza o di disagio mentale e quindi questi 1.400 soggetti avranno l'opportunità di svolgere per almeno un anno di attività questo tirocinio. A conclusione delle attività, qualora le attività dovessero dare, così come già stato nella precedente programmazione, dei risultati positivi, provvederemo a duplicare questo intervento con ulteriori 15 milioni di euro, perché questa misura ha disponibilità complessiva sulla programmazione 21-27 di 31 milioni di euro.